70 persone! Ciao a tutti! Revivis Sant'Angelica, il trattamento che rinnova la pelle in pochi giorni, presente? E può capitare a volte, no, di trovarsi in un piccolo ingordo. La stangata, chi la fa? L'aspetti. Pennevoiello, trafilate al bronzo, con cura. Così si sente meglio il profumo e il sapore del grano duro pregiato. Così restano un po' ruvide in superficie e quando toccano il sugo non lo lasciano più. Voiello, quando tocca il sugo non lo lascia più. Un prodotto liquido arriva anche qui, ma perché non scivoli via? O hai un bagno così o usi Arctic WC. Il primo gel che pulisce e igienizza in soli 15 minuti. Arctic WC, niente, è più rivoluzionario di così. Ugo e Sergio sono gemelli. Stessi capelli, stessi occhi, stesso naso. Ah, i loro nasi sono diversi per Rinogut. Perché? Perché Ugo è raffreddato, mentre Sergio è allergico. Per Ugo è più indicato Rinogut spray. Per Sergio c'è Rinogut antiallergico, specifico per allergie. Rinogut agisce presto e libera il naso per 6-8 ore. Rinogut spray e Rinogut antiallergico. Le soluzioni? Naso? Per naso. È un medicinale, evitare l'uso prolungato, leggere attentamente il foglio illustrativo, non somministrare ai bambini al di sotto dei 6 anni. La colazione? No, no, preferisco Kinder Colazione Più. Anche Isabella ha cambiato idea. Vito tu, e passamene una. Beh, si è decisa anche lei a far colazione in modo più completo. Con più gusto. E con più cereali. Ben 5. E anche più morbida. Con i 5 cereali di Kinder Colazione Più. Con quel gusto di cacao che ti tira un po' su. Puoi partire alla grande. Kinder Colazione Più. Più gusto. Più cereali. Sono qui per verificare con mano chi è dimagrita sodo. Come? Con Enel Rit Protein e il pificometro. Usino il tasto. Testo. Eccola. Usa Enel Rit Protein. Si vede? Con Musdite di Enel Rit Protein, in poco tempo ho pezzi chili che avevo di troppo. Solo di grasso, non di muscoli. E questi? Sono per cena. Posso invitarla? Lo faccio per voi. Con Enel Rit Protein dimagrisci sodo, perché brucia i grassi, non i muscoli. E a casa le presento i miei fratelli. Ma te, cosa gli direi a queste due straniere così? Ah beh, io gli direi, Your eyes is magic, come this granelle. Your gum is long, come the gust of Maxi Bon. Your book is bell, come un tog di stracciatello. You are bon. Bon come un Maxi Bon. Amleto, dai bene mossa questa poesia. Oh, ma c'hai il cuore come un ghiacciolo. Maxi Bon Motta. Piacere da mordere. Un beato te che sei di lingua. Neutro Mantovani, il bagno schiuma delicato per la mia pelle morbida. Oggi è ancora più ricco di un bollente, così anche la mia mamma la pelle più morbida. Neutro Mantovani, la sicurezza del neutro per tutta la famiglia. Peugeot, serie limitata, open. Un brivido di piacere lungo tutta la strada.